ultimamente a volte mi sento angosciata o disorientata e lo so che lo so che questo non giustifica il mio atteggiamento degli ultimi due mesi ma e il fatto è che provo sempre una sensazione strana quando entro qui credo però che sia la stessa la stessa sensazione che proviamo tutti non lo so certo ci sono momenti in cui tuo nonno mi manca moltissimo e vorrei tanto che fosse ancora viva sì anch'io sai quando quando eri bambina e venivi a trovarci parlavi molto con lei con me un po' meno era bello quando mi chiamavi nonnino ti ha detto tua madre di non chiamarmi più così sì sì ma sì sì